In una scorsa puntata di Ippocrate abbiamo visto quanto alcune malattie infettive hanno un ruolo nella gravidanza, nell'ostacolare, il concepimento. Oggi vogliamo capire quale sia il ruolo della tiroide come problematica per chi voglia avere un bambino. Benvenuto a Professor Salvatore Corsello che insegna endocrinologia all'Università Cattolica di Roma. Professore, benvenuto ad Ippocrate. Allora, che ruolo ha la tiroide di ostacolo per chi voglia un bambino? Intanto la condizione più frequente che è la presenza di anticorpi contro la tiroide che una donna su 5 ha può influenzare negativamente la gravidanza perché è dimostrato che l'autoimmunità contro la tiroide riduce il potenziale di fertilità e può aumentare il tasso di abortività. Questo vale in generale e vale anche nel caso della fecondazione assistita. Quindi avere gli anticorpi antitiroide non esclude la possibilità della gravidanza ma è sicuramente un fattore di rischio su questi due aspetti. Che va controllato. Vediamo questo cartello che abbiamo preparato. L'ipertiroidismo in gravidanza, appunto, come lei ha appena detto, aumenta il rischio di aborto spontaneo, può causare anche un parto pretermine peraltro, professore, oppure addirittura in alcuni casi provocare un anomalo sviluppo del feto. È esattamente così. Sia che la tiroide funzioni in difetto che in eccesso ci possono essere dei problemi. Nel caso di una funzione in eccesso bisognerà stare attenti ad aggiustare la terapia perché la terapia tiriostatica, cioè i farmaci che frenano la tiroide, vanno utilizzati nella dose minima sufficiente. C'è da dire che se è seguito l'ipertiroidismo in maniera adeguata in gravidanza, la stragrande maggioranza delle gravidanze vanno a termine con successo e con bambini completamente sani. Che quindi non avranno una familiarità di ipo o ipertiroidismo? La familiarità è quella geneticamente determinata. La possibilità che la madre trasferisca al feto gli anticorpi che stimolano in eccesso alla tiroide va monitorizzata in gravidanza e l'evenienza di un ipertiroidismo fetale o neonatale è facilmente controllabile dal ginecologo prima e dal neonatologo dopo. Allora, professor Corsello, quali sono i segnali che noi dobbiamo cogliere? Che cosa è qualcosa che non va, che ci deve mettere sull'allarme? Noi abbiamo finora accennato all'ipertiroidismo, ma la condizione più frequente è l'ipotiroidismo. L'ipotiroidismo è una condizione in cui tutte le funzioni sono rallentate, quindi ci può essere stanchezza, sonnolenza, tendenza all'ingrassamento, stitichezza, freddolosità. Questa condizione, che come le diceva può essere presente sia nel maschio che nella femmina, anche in questo caso in gravidanza va monitorizzata con maggiore attenzione perché all'opposto la terapia sostitutiva che viene fatta con l'ormone naturale va aumentata in gravidanza. Professor Corsello, quando un nodulo ha la tiroide, ci deve preoccupare? Intanto ci sono degli elementi clinici, la familiarità di primo grado, per esempio per un tumore della tiroide, ma anche un nodulo che all'ispezione, alla palpazione da parte dell'endocrinologo esperto ha caratteri di allarme, perché è un nodulo fisso, duro, perché può dare fenomeni compressivi locali. Poi bisogna fare delle indagini di laboratorio, ma soprattutto strumentali. L'ecografia è l'indagine più importante e molto spesso suggerisce, nella quasi totalità dei casi, l'opportunità dell'ago aspirato. E l'ago aspirato consente con un'accuratezza molto alta di discriminare quali sono i noduli da indirizzare al chirurgo, una minoranza, e quali sono invece i noduli che con sufficiente tranquillità e comunque con un sistema di controlli possono essere seguiti conservativamente. Grazie, professore.